È stato per me un onore partecipare al congresso dell'UGL, perché ne conosco la genesi, la nascita, la prosecuzione, l'impegno in difesa dei diritti dei lavoratori. Ricordo addirittura gli antenati dell'UGL e della Cisna, che come noi allora di destra subiva un tentativo di emarginazione, a cui ha risposto sempre con l'impegno a favore del lavoro e dei lavoratori. Oggi questo impegno ha una priorità, la sicurezza sul lavoro, che bisogna affrontare senza distinzione di maggioranza e opposizione, di destra e di sinistra, di governo o non di governo. L'ha detto il Presidente della Repubblica, lo ha confermato il Presidente del Consiglio e i capi di tutte le forze politiche, è una priorità, la sicurezza sul lavoro, le morti drammatiche sul lavoro, che non può essere più rimmiata, una priorità a cui sono certo tutti concorreranno per cercare di dare risposte definitive.